Ciao, buongiorno. Allora, sono due giorni che siamo veramente bersagliati dalle mosche. È una cosa incredibile, mosche fastidiose, da qualsiasi parte. Questa mattina una mi ha seguito, non so per quanto tempo. Vedo tutte le persone, qua siamo al mercato oggi, persone che si lamentano, ma anche ieri. Allora, tanti dicono, come mai tutte queste mosche? Allora sì, per carità, il cambiamento climatico, il caldo, eccetera. Però ieri abbiamo avuto la possibilità di sentire proprio un veterinario dell'ASL, che era in giro per Chioggia, in particolare il mercato ittico all'ingrosso. E il problema delle mosche è dovuto soprattutto al fatto che si lasciano avanzi di cibo in giro. È quello che è molto importante, perché basta pochissimo, perché una mosca si riproduce e fa centinaia e centinaia di figli, in pratica. Quindi è questo il problema principale. Quindi invece di pensare che il comune debba spargere di prodotti, anche adesso abbiamo la mosca che ci viene addosso in questo momento, non è le amministrazioni che possono prendere e riempire di prodotti che poi fanno male, perché dopo arrivano in circolo, in altra, alla fine entrano nel circolo, diciamo, alimentare. Dobbiamo cercare di essere tutti più puliti. Io ieri, proprio ieri, mi è capitato a casa, avevo lasciato l'organico a casa chiuso per due giorni, di solito lo butto via ogni giorno, e c'erano già, era già pieno di setti. E quindi è assolutamente importante non lasciare niente in giro.